Il calabrese Don Domenico Battaglia è nominato cardinale da Papa Francesco, sono e resto Don Mimmo. Il Papa aggiunge un cardinale al concistoro e all'arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia, calabrese di nascita e infatti originario di Satriano, 61 anni, va ad aggiungersi alla lista dei porporati che riceveranno la berretta il prossimo 7 dicembre. Don Mimmo, così continuano a chiamarlo i fedeli, è alla guida dell'Arcidiocesi Partenopea dal 2020, è noto per il suo impegno sociale a fianco ai più fragili. Prima dell'Arcidiocesi Partenopea, vescovo della diocesi di Cerreto, Sannita, Telese, Sant'Agata, De Goti, in provincia di Benevento. Battaglia ha compiuto gli studi filosofico-teologici al Pontificio Seminario Regionale San Pio X di Catanzaro, ordinato sacerdote il 6 febbraio 1988 e stato nel corso degli anni parroco, rettore, direttore di uffici diocesani, canonico, divenendo una figura pastorale di spicco. Non chiamatemi Eminenza, come qualcuno già ha fatto, sono e resterò sempre Don Mimmo. È uno dei primi commenti di Monsignor Domenico Battaglia, scelto dal Papa tra i nuovi cardinali. La nomina con cui Papa Francesco mi ha inserito quest'oggi nel collegio Cardinalizio mi ha accolto di sorpresa, dice Monsignor Battaglia, ai media vaticani, generando in me una duplice reazione. Da un lato sento il peso di questa responsabilità con cui il Papa mi invita ad allargare il cuore, per aiutarlo nel suo ministero e ospitarvi la sua premura per la Chiesa Universale e per il mondo intero. Dall'altro avverto una sincera gratitudine verso Papa Francesco, non tanto per l'attenzione che rivolge la mia persona, ma perché nel chiamarmi a questo servizio ha guardato a un figlio del Sud, vescovo di una Chiesa del Sud, di questo Sud, che è al contempo terra di fatica e di speranza. Per questo, aggiunge Battaglia, sento come mio dovere, anche in questo nuovo incarico, portare con me le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono nel nostro meridione e in tutti i Sud del mondo, Sud esistenziali e non solo geografici. A se stesso e a tutti ricorda che diventare cardinale non è un privilegio, ma una responsabilità, responsabilità che possiamo condividere nella misura in cui cammineremo insieme, sostenendoci, servi gli uni degli altri.